Sabato tocca all'Inter ed è disastro per i neroazzurri che vengono triturati da un Genoa molto concreto. È il canto del cigno di Schillaci, ultimo gol italiano prima della nuova avventura giapponese, poi è festival rosso-blu, doppietta di Ruotolo, zampata di Scuravi, Marini distrutto alle dimissioni nel cassetto, Pellegrini 48 ore dopo annuncerà l'ingaggio di Ottavio Bianchi, sarà allenatore dell'Inter per la stagione 94-95.